Accomunati da uno strano e dal quanto insolito destino, il racconto di Giulianova Torrese inizia già dall'estate passata quando il presidente Bartolini rileva il titolo sportivo dal Castellalto e quando i torresi, frazione appunto di Castellalto, raccolgono le forze residue per rilanciare il suo dalizio di Villatorre per un pronto ritorno in eccellenza. Ed eccole, prima e seconda della graduatoria a sfidarsi a ranghi completi per il big match con i pezzi pregiati al rientro da Alessandro tra i locali e De Santis tra gli ospiti. La gara trova il contorno più bello e fascinoso per uno scontro al vertice. C'è un bel pubblico al Rubens Fadini, avvio di cara che dice bene alla Torrese che si salva grazie al palo, la stoccata di Gabriele Puglia sotto misura, centra il montante di destra della porta difesa da Donateo. La gara si svolge con un cliché che vede la Torrese attendere le mosse giuliesi che hanno il premio del possesso palla, sterile l'attacco che vive di spunti, lo spunto lo prova da solo Tozzi Borsoi che si infila in area, salta un avversario, finisce giù ma viene sanzionato dal direttore di gara al ventiduesimo che giudica volontaria la caduta e gli commina il giallo. Poi due occasioni per David Lennart alla mezz'ora, tiro dal limite da buona posizione che finisce clamorosamente fuori dallo specchio della porta mentre ad un minuto dal termine non sbaglia la mira ma permette a Donateo la facile presa, colpa della poca potenza. Due minuti di recupero e squadre a riposo sullo 0-0 e la ripresa si apre con il tentativo di offesa del cannoniere del torneo. Torre tira comunque a lato. Due minuti dopo la svolta in area torrese, Lucci contrasta in modo irregolare, Tobia Melis, l'arbitro non ha dubbi, fischia il penalty dal dischetto, va Tozzi Borsoi che trasforma 1-0. Si attende la reazione della squadra di Romolo Maiorani che in verità si sveglia tardi e soprattutto quando vengono meno le forze del Real Giulianova al minuto 24 Casimirria tutto il tempo per chiudere la gara ma sbaglia l'imponderabile, la parla per vergogna, scompare oltre la tribuna. Si fa vivo oltre la mezz'ora al 34esimo la torrese con De Santis che viene fermato da Abate ma soprattutto viene fermato dal direttore di linea che lo giudica a nostro parere sbagliando in offside. I cambi permettono a Vincenzino Angelone l'innesto di Daniele Gizzi che a un minuto dalla fine consegna a Tozzi Borsoi la palla per il 2-0. È al Giulianova di chiudere la gara ed agguantare per la prima volta nella stagione la vetta. Presidente il pubblico ha raccolto il suo invito, la squadra, il progetto serio determinato di questa società oggi ha fatto un primo passo importante con questa vittoria. Sì, devo ringraziare la città perché ha risposto al mio appello e devo ringraziare i ragazzi perché hanno fatto una partita a ritmi elevati con grinta e soprattutto con il cuore. Questa, ho detto ai ragazzi prima della partita, era il primo incontro che tra virgolette rimaneva nella storia della società perché era un primo bivio dove noi dovevamo far vedere se eravamo in grado di poter vincere subito il primo campionato e penso che la squadra abbia risposto alla grande. Cosa significa giocatori importanti che si calano nell'umiltà di questo campionato? Significa che la società promette loro veramente un'assistenza straordinaria e promette loro una serietà di progetto come dicevo all'inizio che loro hanno raccolto a pieno perché è difficile vedere che poi tanti giocatori che pure hanno un passato alle spalle grandioso si impegnano così in un campionato di promozione. Sì, devo dire che noi nella scelta dei giocatori importanti abbiamo prima visto l'uomo e poi abbiamo completato con la sua bravura. Devo dire che i ragazzi vedono e capiscono che la società ha tutta l'intenzione di fare le cose per bene per anni e di riportare il Giulianova a calcio ai suoi livelli come erano e di anni. Allora mister, questo è un primo passo, Giulianova non può sentirsi arrivato dopo questa vittoria. Una vittoria difficile, una squadra che ha giocato con giudizio, aspettato i momenti buoni, opportuni. Insomma Giulianova quasi perfetto di fronte a un avversario che ha meritato la posizione che ha in classifica. Certo, era una squadra impattuta, quindi questa è dimostrazione del fatto che stavano facendo bene. Però per quanto riguarda i miei ragazzi oggi hanno disputato una partita ad alti livelli, soprattutto sotto il profilo della concentrazione, dell'atteggiamento, della volontà di ottenere a tutti i costi la vittoria. E penso che sia anche meritata, perché abbiamo cercato e condotto poi la partita per tutti i 90 minuti. C'è stata una grossa intensità anche in merito alla Torrese che stava messa bene in campo, ripartiva in modo pericoloso. Però ecco, oggi con grande abbenegazione le due fazze sono state fatte proprio con la massima attenzione. E questo ci ha permesso di non rischiare niente, tanto che non abbiamo subito in porta, e creare almeno 4-5 palle e gol su cui su due sono voi scaturiti due gol. Romanone, Tozzi-Borsoi. Oggi Giulianova primo e anche tu primo in graduatorio, no? 15 gol. Sì, sì, ma l'importante era dimostrare che siamo una squadra forte, quindi per farlo dovevamo battere la Torrese, che fino ad oggi era sopra noi, quindi sicuramente era la partita giusta per dimostrare questo. L'abbiamo fatto e siamo contenti, ma siamo anche consapevoli che il campionato ancora è molto lungo, quindi dobbiamo riuscire adesso, abbiamo un nuovo obiettivo che è quello di riuscire a fare più punti di loro. Tanto avete tuonato che avete raccolto questo bel successo, onesto, importante, ma che è il primo passo di questo anno. Sì, guardi, noi siamo partiti celermente, abbiamo allestito una squadra di tutto rispetto, rispetto agli impegni che avevamo assunto, quindi volevamo allestire un organico di primo piano. L'avevamo fatto, poi c'è bisogno del riscontro, del campo. E perdere la prima partita, quando si inizia un'avventura, poi in una piazza straordinaria, ma complicatissima, con quella di Giulianova, perdere la prima partita è stata una mazzata tremenda. Che anche questa volta la società, quello che ha pensato bene di preparare, ha dato i suoi frutti, quindi è stato un capolavoro, oltre che dal punto di vista del risultato, che poi è il coronamento di una serie di componenti che convergono per raggiungere lo stesso risultato, e anche stavolta abbiamo dimostrato che forse continua a pensarne qualcuno senza nessuna vena polemica. Insomma, Giulianova può godersi una squadra importante e una società che sa il fatto suo. Speriamo che questo binomio, per non dire trinomio, insieme alla folla che avete visto oggi dopo dieci anni, mi dicono parecchi tifosi, insomma, possa proseguire. Grazie. 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 Grazie.